Dopo tanta attesa è arrivata l'offerta vincolante di Ubi per l'acquisizione di tre delle Good Bank, Banca Truria, Banca Marche e Carichietti. Ecco come commenta questa notizia il sindaco di Arezzo. Deo grazie. Alla fine abbiamo avuto quello che tutti speravamo, cioè che ci si appresta a chiudere una vicenda dopo ben più di un anno da quando il decreto salva banche ha aperto questo tema. Io ho detto se Dio vuole, perché? Perché alla fine Arezzo cesserà di stare sotto i riflettori dei mezzi di informazione sulla graticola mediatica nella quale si è trovata per così lungo tempo. Il fatto che Arezzo fosse la sede di Banca Truria che per certi versi ha creato tutto il problema di sconquasso sia agli obbligazionisti subordinati ma soprattutto al tessuto economico cittadino ha comportato che sulla stampa si è per mesi, tuttora si continuano a vedere i disastri prodotti dalla banca sul territorio e sui risparmiatori e quindi Arezzo viene descritta come una città da una parte di Lestofanti e dall'altra di Allocchi che hanno abboccato alle sirene della finanza locale. Non è così. Arezzo è una città produttiva, è una città intelligente, è una città che ha dovuto pagare un prezzo di un qualche cosa che non ha prodotto. Preoccupo oggi la tenuta occupazionale però? Esattamente. La tenuta occupazionale è anche un po' la politica che vorrà fare Obibanca sul nostro territorio. A noi ci vengono a mancare due cose. Una è una tenuta di tipo occupazionale sulla quale però già un passo è stato fatto perché i vertici di Banca Etruria fino a oggi hanno fatto, grazie alla possibilità di poter accedere a un fondo appositamente istituito, una contrattazione con i sindacati e con i dipendenti per la riduzione del personale consensuale. Circa 250 unità hanno accettato di lasciare Banca Etruria. Se si fanno i conti rispetto a quella che è stata più volte data come cifra di riduzione complessiva delle quattro, oggi tre banche, cioè di 900 unità, e si fanno i rapporti tra i dipendenti di Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, si scopre che, guarda caso, se di quei 900 Arezzo si fa carico di 250 i conti tornano, anche perché questo territorio ha già dato Cadla, Cantarelli, cioè ne abbiamo tante di aziende che hanno dovuto purtroppo chiudere i battenti o che hanno dovuto ridurre la forza lavoro. Ora basta. Tanta preoccupazione per quanto riguarda il mantenimento invece del centro direzionale ad Arezzo? Questo è l'altro tema, che è forse il più importante di tutti, la madre di tutte le battaglie è questa, viene a mancare la banca del territorio. Chi la potrà sostituire? A meno che UbiBanca non voglia su questo territorio operare una scelta di tipo territoriale, il che potrebbe anche essere, quindi sarà opportuno parlare con i nuovi proprietari di Banca Etruria per capire qual è la loro politica. Certo, questo territorio che è in crisi, se vuole uscire dalla crisi, ha bisogno di un partner bancario forte.